In seguito ad un'attività della Polizia giudiziaria diretta dal procuratore capo della Repubblica di Paola, il dottor Pierpaolo Bruni e della sostituto, la dottoressa Teresa Valeria Grieco, che aveva portato anche all'esecuzione di misure cautelari, personali e sequestri nei confronti di diverse persone accusate di aver commesso il reato di trasferimento fraudolento di valori, la Guardia di Finanza ha smascherato una ditta individuale fantasma attiva nel settore della pubblicità. Una volta rilevata la fittizia e intestazione della società, i finanziari hanno avviato una verifica fiscale sull'attività, rilevando che nel corso degli anni i titolari sia fittizi che effettivi non avevano mai presentato dichiarazioni fiscali né pagato imposte. Si è quindi proceduto a ricostruire le vendite di utili dell'impresa, anche attraverso indagini finanziarie e riscontri effettuati nei confronti di numerosi operatori commerciali del settore, attività particolarmente difficoltose a causa della mancata esibizione della documentazione amministrativa e contabile, constatando la mancata dichiarazione di ricavi per oltre 3 milioni e 600 mila euro di imposte complessive per oltre 2 milioni e 300 mila euro. Al termine delle attività, l'amministratore di fatto e il suo prestanome, sono stati anche denunciati alla Procura della Repubblica di Paola per la commissione dei reati di omessa dichiarazione, occultamento o distruzione di documenti contabili. Entrambi rischiano adesso la reclusione fino a 6 anni, aumentata sino al triplo per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili e fino a 4 per i reati di omessa dichiarazione. Grazie